No, perfetto. Allora ragazzi, se avete setup, stop loss che avete preso, di cui volete una contestualizzazione, che andiamo a analizzare, che ne vedremo proprio nel caso specifico, step by step, sfruttate questa lezione qua, questo tempo che vi metto a disposizione per mandarle, che così almeno possiamo andare a imparare ancora di più. Ok? Perché sicuramente avrete avuto qualche stop preso, qualcosa che non è andato come sperato e quindi io vi consiglio, magari anche se non siete pronti per le prossime volte, quando ci saranno e quando ci faranno, di appunto accumulare queste cose e di convogliare tutto per poter estrapolare, scroccare, diciamo così, la maggior parte delle informazioni che si possono avere. Ok? Così almeno potete farne anche tesoro e avete un vantaggio statistico più grande poi successivamente quando vi ritroverete a grafico, perché al fine questo è l'obiettivo delle correzioni stop loss che vengono fatte. Ok? E bello però, sta andando su piano piano anche quello e sono super contento. Che poi anche qui c'era anche un'altra cosa, che dopo andremo a approfondire bene, con alcuni ragazzi, sì c'era un po' di astri che si stavano allineando e se va giù a target sono solo che contento. Allora, partiamo da quello che ha mandato qua Gabrile, che lui praticamente ha provato uno short su questo livello qua e poi ne ha provato un altro. Quindi qua Gabrile se ci sei dammi anche un check, tu hai provato due stop, cioè hai preso due stop provando per due volte di fila praticamente andare con il mercato ad andare giù, giusto? Ok, perfetto, allora adesso andiamo a capire una cosa molto importante, molto molto importante, praticamente questo è di oggi anche tra l'altro, dammi un check di stamattina, giusto? Che hai provato? 9 al mattino Però non credo che sia di oggi, aspetta Questo è di ieri Poi ci diamo anche un occhio a quello, va bene? Va bene, guardiamo anche il gold, facciamo una panoramica di quello Allora, qua dentro, questa è la situazione Do tu praticamente hai provato uno short Questa E poi hai provato un altro short Su questa, se non sbaglio, esatto Esatto, allora, andiamo a vedere un secondo cosa ci ha combinato qua il prezzo Primo livello qui dentro Ok Ok, 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 allora Cosa super importante Che io ci tengo a martellare su questo concetto veramente tantissimo Veramente tantissimo Ragazzi, finché non vi entra nella testa E io continuo a martellare anche e soprattutto ai ragazzi della community privata di questo concetto qua Voi dovete imparare ad andare a favore di direzionalità Ok? Bisogna imparare ad andare a favore di direzionalità Cosa significa andare a favore di direzionalità? Se io vedo che continuamente il mercato mi sta costruendo Massimi e minimi Più alti Non ha senso cercare opportunità di vendita Perché se seguiamo anche la narrativa di quello che ci ha fatto ad esempio qua dentro Cosa hanno combinato? Guardiamo attentamente qui Avevano fatto questa zona di liquidità Dominance formata Avevano creato altra liquidità Avevano lasciato la candela istituzionale scoperta Che non avevano testato E dopo che hanno fatto questo impulso con un segno di forza Non sono riuscito a testare la zona E dopo successivamente hanno completato il pattern su questo livello qua Per andare a rialzo Quindi continuare la direzionalità rialzista Che se andiamo a vedere attentamente Comunque vediamo che stanno sparando bene a rialzo E altra cosa Ovviamente quando vediamo che il prezzo poi inizia a comprimere In questo modo E vediamo che poi inizia a ripartire con forza Esatto Esatto, bravo Ci troviamo molto più probabilmente di fronte a un riaccumulo Perché guardiamo anche qua dentro cosa succede Vedete che il prezzo qua Questo È andato ad accumulare Ok Quindi ho fatto la schematica per spingere E andare a rialzo Per andare a prendere le altre zone di liquidità Che si era lasciato Alle spalle nel mentre che veniva giù Perché se guardiamo poi anche qui attentamente Infatti questa è un'esercizio che bisogna fare sempre tutte le volte Quindi andare a mappare la liquidità Vediamo che ho lasciato liquidità sul livello Altra liquidità E Qui dopo che ho creato anche questi altri massimi qui Aveva lasciato zona di imbalance Con zona di candeline istituzionale che era rimasta scoperta E quando ci sono anche zone di questo tipo Che vengono lasciate scoperte Poi diventano delle calamite Quindi noi possiamo utilizzarlo sia come ipotetico punto di target Ma anche come punto possibile di entrata Per continuare a cercare la distribuzione E vedendo qua Il prezzo ci dà una bellissima reazione Ma solo su quel punto lì Ok Però comunque qua dentro cos'è che succede Schematica di accumulo Dopo un accumulo Cos'è che ci aspettiamo ragazzi? Quella cosa che Ho fatto anche un video youtube Su sta cosa qua Quali sono le due schematiche che noi dobbiamo aspettarci Che il mercato va a fare? Esatto Abbiamo una fase di accumulo E poi abbiamo una fase di ri-accumulo Quindi A livello teorico Il prezzo se va a fare questo E parte Dopo dobbiamo stare attenti Perché solitamente questo lo va a fare Poco prima della nostra zona di interesse Magari Qua c'è una zona per il sell A fare questo Qua ci va a fare un altro ri-accumulo Per andare sulla nostra zona di interesse E poi qui Eventualmente ci aspettiamo una distribuzione Per invertire e andare a ribasso Però fino a quando il mercato Solitamente non ci va a fare due schematiche Di accumulo e ri-accumulo Noi dobbiamo evitare Di andare contro quella che è la direzionalità Perché ci faremo sempre male Ci ritroveremo sempre A prendere stop loss Perché andiamo contro trend Ok Quindi qua dentro Ci ha fatto la schematica iniziale Ci ha fatto una seconda schematica Per continuare Ad andare a rialzo E qua c'era anche Un'altra cosa molto Molto interessante Da implementare Che poi In caso Con i ragazzi Nella live di dopo Andiamo a vedere insieme Che È molto 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 carino E Vedendo qui attentamente Poi il prezzo Torna a testare Sbilancia la liquidità E continua ad andare a rialzo Però Effettivamente Anche a time frame M5 Qua non c'è stato Nessun tipo Di cambio Dominance Che ci faceva dire Guarda io Provo A Cercare di prendere Un'inversione Perché quello che tu hai cercato Di fare qui dentro È stato proprio quello Di andare a prendere Un'inversione Ma il prezzo Non ha fatto una schematica Complicata Una schematica Che noi ricerchiamo Solitamente Semplicemente qua Vista così È andato a fare Una fase di ritracciamento Ok Guardandola anche qua Su M1 Uno su M1 Poteva anche andarlo A valutare Un possibile sell E non era sbagliato Ok Sulla zona Perché su M1 Cosa avevamo? Prezzo che qui sopra Testa la nostra zona di candela istituzionale Nel macro Ci va a formare Candela istituzionale Ci dà un temporary profit Quindi Vedivamente qua Il mercato va a fare il cambio Ma su M1 Fa un cambio Ma ricordiamoci Che il time frame superiore Comanda Sul time frame Inferiore E quindi qua dentro Dopo che ci ha fatto questo cambio Cosa combinano? Vanno a creare Questa zona qua Di liquidità Ci vanno a formare Questa candelina Istituzionale Al 50% Perché beh Che è piena Questa Ci aspettava il test Ci avevamo allineato Anche l'immissione E qui dentro Ci poteva andare a valutare Un possibile Cell Per continuare Ad andare giù Ok E così ci stava Però ovviamente Se tu sai Che ti trovi di fronte A una Un ritracciamento Nel micro E sei contro Nel macro Allora Devi essere Molto più conservativo Con il target Il più possibile Lo stesso Un 1 a 3 Un 1 a 4 Un 1 a 5 Lo puoi tirare fuori Ok Se tu te le tue conferme E segui la strategia Comunque Lo riesci a tirare fuori Dal mercato Però il problema Insorge Quando si cerca Di andare A forzare Ancora di più Il tutto Cioè si cerca di Andare a prendere Un take profit Molto più largo Rispetto a quello Che il mercato Effettivamente Ti mette a disposizione E qui Si va a fare La fase di di basso Però è un errore Che è stato fatto Poi domanda Questa analisi Questa è fatta Soltanto su M5 O comunque Guardate anche su M1 Gabriel Perché è importante Capire anche Questi Questi dettagli Ok Anche su M1 Perfetto Quindi tu Praticamente qua Ti hai rifatto Quest'analisi qua Per andare a ribasso Quindi alla fine Tu hai fatto Quest'analisi qua Giusto? Quello che avevi visto A livello grafico A livello visivo Ok Perfetto Allora qui A livello di Narrativa Va bene Ci sta Però quello Che ti sei scordato Tra virgolette Che ti ha lasciato E quello che ti ha fregato È stato il fatto Che comunque Il mercato Continuava a spingere A rialzo E continuava a dare Segni di forza Poi vedi anche Come Quale impulso Buy è più forte Rispetto a quella Che è la fase Di ritracciamento Da parte del prezzo Vedi Molto più lento Molto più veloce E Una cosa Che si poteva andare a fare Se vediamo L'impulso Precedente Dov'è che avevamo Dei punti di liquidità E delle zone Che potevano essere Interessanti Da andare a prendere Quella più Bella Tra virgolette Quella che era più interessante Da andare a valutare Era intanto Questo doppio minimo Perfetto Dove il mercato Ci ha dato una reazione Infatti da qua Poi Si è andato a rigirare Poi Avevamo anche Quest'altra zona Di candela istituzionale Che era rimasta scoperta Che è tra l'altro Anche qui dentro C'è la emissione Che il mercato esplode Lascia imbalance E anche qui dentro Abbiamo avuto reazione Però se uno va a fare Un'operazione di questo tipo Già così Tu sei bello che è a posto Cioè ti porti a casa Il tuo 1 a 7 Ipotetico E va benissimo Oppure se stai anche Con lo stop plus più largo Ti porti a casa Quello che può essere Quasi un 1 a 3 Oppure anche con stop qua Però all'1 a 3 1 a 4 Seguendo quello che deve essere fatto Alla fine ti salta fuori Però mi raccomando ragazzi Imparate A non essere Troppo Avidi Con i setup Soprattutto dovete Riconoscere I vostri limiti Perché se il mercato Vuole andare long Però ti dà nel mentre Un'opportunità Di andare a fare Un ritracciamento Tu devi sfruttare Al massimo Quell'opportunità E non cercare Di approfittartene Quasi dopo Perché speri Che il prezzo Se ne vada giù E ti vada a dare Quello che è il tuo target Finale che ti sei impostato Anzi Devi essere molto più Attento E essere grato E dire Ok Io mi muovo Fino a Quella che è La prima zona Che potrebbe darmi più fastidio Alla salita O alla discesa del prezzo Questa è la domanda Che ho sempre Proposto ai ragazzi Di farsi Quando si tratta Di fare l'analisi Qual è la zona Che mi potrebbe dare più fastidio Alla salita Alla discesa del prezzo Per trovare Take profit E quindi con la liquidità Statica Dinamica Candestiche Emissioni Tutte quelle cose Che abbiamo studiato Qui dentro Ovviamente vediamo Anche la reazione Da parte Del prezzo Ok Tracciamento Per dopo Rigirarsi E qua ti ritornava A break even Poi qui dentro Non capisco Come mai Hai preso Però stop Cioè questa è la domanda Che mi viene da Da fare Perché Ok Va bene Che c'era Ma come mai Non ti sei magari coperto Hai messo a break even Non ti sei mossa In maniera diversa Questa è la domanda Che voglio Voglio capire Perché qui dopo che il prezzo Poi parte E ti fa la schematica E ti dà la direzione E ti dà ragione Tra virgolette Tu ti devi andare a coprire Punto e basta Soprattutto anche perché Ti toccano Perché mi sono imposto Di prendere Ah Come mai questa cosa Cioè come mai Ti sei imposto Di prendere soltanto O stop O tp Questa è una cosa Pericolosissima Cioè Se devo essere sincero Come mai C'è proprio una regola Che tu ti sei detto O stop O tp Punto e basta Cioè non c'è una roba Logica dietro Allora ci sta No Ci sta come cosa C'è il primo Che si impone così tanto Per prendere O stop O tp O tutto o niente Ecco Ok a volte mi torna Be e parte Ma quante Quante volte Ecco questa mi viene da farti Come domanda Quante volte Il prezzo Ti ritorna a break even E parte Quante volte Il prezzo Magari Quando ti ritorna A break even Potevi evitare Prendere stop Quindi invece di Meno uno Potevi prendere zero E poi ripartire Con lo Il setup Successivo Perché se ci pensi Come ragionamento Non è il massimo Perché a livello Di gestione operativa Poi sul lungo periodo Ti va a danneggiare Tu ti basi Su quelle Poche volte Dove effettivamente Il mercato Ti testa la zona E parte Ti prende break even E parte Ma quante volte È capitato Almeno di come Vado a gestire Io l'operazione A livello di come Mi vado io a muovere Poche Veramente pochissime volte Perché Se il prezzo Deve andare Ci va Se mi torna A break even È difficile Che poi Effettivamente Riparta Nuovamente Mi vada A take profit E io Voglio Basarmi Su quello Che succede Più di Sicuro Quello che succede Per più volte No quello che succede Una volta ogni tanto Perché più Diamo energia A A quell'unico Evento Che ci provoca Un dolore emotivo Più Noi Finiremo Per attaccarci A un qualcosa Che è raro Quindi finiremo Per prendere Delle decisioni Poi Permanenti Basate sulle emozioni Temporanee Ed è sbagliata Come cosa Quando vediamo Che il prezzo Qui dentro Ci va A formare Questa Ultima dominance Che viene fatto il cambio C'è la rottura Vediamo che qua dentro Va a fare il test Della nostra zona Di interesse E dopo che ci ha fatto Il test Della nostra zona Di interesse Vediamo che Sbilancia anche Questo livello qua Per dopo partire Andare di basso E va a fare Un'altra dominance Quando il prezzo Vedi che fallisce Che ti fa Un minimo più basso Nella struttura micro E ti sbilancia E ti dà Evidence Di andare a ribasso Qua Una volta che ti ha fatto Questo movimento qui Per andare giù Dopo non c'è più motivo Per il prezzo Di ritornare indietro Se non per andare A prendere stop loss Qui avrebbe preso C'è un caso Che prendevi anche Target Magari su zone Leggiamenti più sotto Ti avrei preso Brecchi E mi dici Ecco Adesso Se io Avessi lasciato Qua su questo punto Sarei andato Sarei ancora in profit Sarei ancora dentro Magari il tuo take profit Però Era qua sotto Intanto Il mercato Non era ancora pronto Per distribuire E invertire In maniera completa Ok E questa è una cosa Molto importante Quindi lì potresti Incappare nel fatto Che ti trovi In una situazione Dove può esserci Un'idea di short Però non si va A verificare Perché non è ancora pronto Il mercato Ha bisogno di accumulare Altri ordini Per poi ripartire Eventualmente Però poi Vedi che È quasi Autodistruttiva Come cosa Perché qui Ti dà reazione Magari tu dici Ok Sono super convinto Non vado a gestire Il trade Però nonostante Poi ritorni anche in profit Un'altra volta Vieni buttato fuori Inutilmente Cioè prendi anche uno stop Che potevi tranquillamente evitare Ed è meglio essere Al sicuro In inglese dicono Safe Better than sorry Ma perché? Perché se tu hai La gestione operativa Ben chiara e delineata E sai come eseguire Il tuo piano Lì puoi stare Bello che tranquillo Perché poi È la lunga Sul lungo periodo Tu Sei In profit Capito? Questo è il nostro obiettivo Costruire statistica Sul lungo periodo E non lasciare Quell'evento singolo Vado a influenzare Tutto il resto Noi non dobbiamo Concentrarci sull'albero Perché sennò Poi non vedremo Tutta la La foresta Di mezzo Stessa cosa qui Quindi mi raccomando Quando vedi che il prezzo Che ti testa La zona più Importante È la zona più estrema E ti dà Conferme Che sta costruendo Per andare a ribasso Copriti Cioè Mettiti al sicuro Ovviamente Ognuno può Vai a fare Quello che gli pare piace Giustamente può dire Ok grazie del consiglio Ma non lo voglio Prendere in considerazione Però a livello di gestione Poi Operativa Anche per la mia esperienza Sul lungo periodo Queste Sono le cose Che Converrebbe fare Di più A livello Di long term Ok Poi Per l'altra operazione Invece tu hai provato Qui dentro Che l'avevo mandato Su M5 Hai provato Un altro cell Sulla zona Però se vedi Qua dentro Tra questo primo setup E quest'altro setup Che tu potevi andare A valutare Con test Della candelina Per andare giù Vedi che qui Il prezzo Semplicemente ha fatto Una fase di tracciamento Ma guarda Contro cosa stavi andando Crea massimo più alto Rompe con segno di forza Ti va a fare anche Vari cambi dominast In mezzo Quindi qua Questo è stato un trade Che Mi viene da dire Quasi È stato più per Provo A entrare lo stesso Senza per avere Le mie Conferme Questo era molto più completo Infatti qua La reazione Per prenderti il trade Così C'era tutta Esatto Questa qua Non aveva senso Ed va benissimo Quando Quando tu Prendi stop E ti rendi conto Anche di aver fatto Una cosa che non aveva senso Ottimo Fantastico Bravo Segnatela Ed è ottimo Ammettere Che tu hai preso Uno stop loss Che non aveva senso Devi inserirlo Nel tuo trading journal Però Perché se non lo vai inserire Nel tuo trading journal Non c'hai neanche Possibilità di migliorare Dici Ah vabbè Andata così Ma tu non stai facendo Del torto a nessuno Se non a te stesso E ti fai veramente male Cioè Vedete che qui dentro Questa opportunità Qua era ottima Ok Questa qua rispettava La strategia Ci stava Contro le direzionalità macro Ma comunque Un piccolo scalpo Ti andalo a prendere E tu eri bello Che a posto Però se vedi che dopo Non c'è La possibilità Raga Evitate Io ho fatto un discorso Un pipotto mentale Veramente L'avevo scavato A fondo Con i ragazzi Anche da community Sul fatto di Cercare Di tradare Con molta più Tranquillità E noi Perché andiamo a tradare Questa è anche una domanda Che voglio fare A tutti voi Anche qui Del gruppo telegram Ragazzi Come mai Le persone Cercano di tradare In maniera insistente E prendere più setup Durante la settimana Il più possibile Secondo voi Quali sono le motivazioni Che ti portano A prendere tanti trade Durante la settimana Che poi Inevitabilmente Il prendere tanti trade Ti porta a prendere Anche quelli Che possono avere Una possibilità Perché c'è il pattern Ma tanti altri Dove non c'è Secondo voi Qual è? Siate il più sinceri Possibili Io quando prendo due stop Riparto il giorno dopo Quella può essere Un'attima strategia Del dire A livello di gestione operativa Io evito Di prendere setup Perché comunque Non sono più Stabile Ok Impazienza Di arrivare all'obiettivo Quello sì Ludopatia Sì Fomo Esatto Perché alla fine tu Vuoi andare a A recuperare Anche quello che è stato Il loss Che hai fatto Vuoi ritornare Di nuovo in gioco Il prima possibile Vuoi recuperare Il loss che hai fatto E quello È logico Ovviamente Perché dici Però adesso il mercato Ce l'ha con me Quindi adesso Li faccio vedere io Che sono capace Non riuscire a contestualizzare Nel dettaglio Il più possibile Anche Quella è una cosa Che Diciamo Va a Danneggiare Tanto Però Una cosa Che ti fa E fidati Raga Vi penalizza Veramente tanto È Avere anche Una sola fonte Di entrata Quando voi Mettete tutte Le uova In un solo Paniere Fate in modo Di massimizzare Il più possibile Quella cosa Quella determinata Cosa Ok Adesso io non mi voglio Inserire altri discorsi Di diversificazione Con vari business O altre cose Che ci possono essere Ok Però se voi ci pensate Come tu Traderesti Se sapessi Che Hai altre attività Hai il tuo lavoro Che comunque Ti permette di portare A casa il pane Immagina adesso Per un secondo Di avere Un'altra attività Che può essere Online O offline Qualsiasi Essa sia Ok Qualsiasi Che ti porta Magari Quei 2000 euro Al mese O 2500 3000 euro Al mese Ok Com'è che tu Traderesti Cioè cercheresti Lo stesso In maniera insistente Di Metterti a grafico Ogni singolo giorno Per provare a prendere Il più Setup possibili Siete sinceri Sì o no Basta su tanto una cosa O sì O no Ok Dite di no Giustamente Ne basta uno Cioè Basta semplicemente Quel setup Fatto bene Che anche se Io lo vado a prendere Bene Se non lo vado a prendere Fa lo stesso Tanto i miei soldi Me li faccio Farei massimo 3-4 setup Al mese Esatto Io per dirvi Il mio personale Di media Ho visto Che comunque Vado a prendere Dai 3 Ai 5 Setup A settimana E che vado Anche a condividere Con i ragazzi Della community Ma so Che quelli Che vado a prendere Sono quelli Che rispettano La strategia Per file Per segno E siccome Mi sono andato A costruire Altre fonti Di entrata Questo Mi permette Poi Indirettamente Di essere Molto più tranquillo Con l'approccio mentale Che ho a grafico Perché non è che dico Oddio Devo cercare setup Perché senza Prendere setup Allora non posso Fare soldi Quindi non posso Andare avanti E vivere No Ma la prendo Molto più Con tranquillità Ed è questo Approccio mentale Qui che ti permette Di stare In uno stato emotivo Sempre Bilanciato Prendo take profit Ok perfetto Vediamo se Domani c'è Qualcos'altro Se c'è il setup Perché magari Si possono anche Presentare due setup Perfetti In un giorno solo Potrebbe presentarsene Anche zero In uno solo In un sola giornata Potresti prendere Uno stop loss Un take profit Potresti fare Magari anche Tutta la settimana Dove Dal lunedì Al giovedì Non prendi Niente E dopo Ti ritrovi Magari il venerdì Che ti trovi Il setup Che Ti fa fare bene La settimana Perché il nostro obiettivo Non è prendere Più tre Impossibili Ma è chiudere Impositivo Poi alla fine Della settimana Ed è quello Che la maggior parte Delle persone Tende a trascurare A tralasciare Perché dà importanza Sulla quantità Ma non sulla qualità E Quando uno cerca Un setup Magari Questo qua Era il setup Di ieri Ok Ce ne erano due Questo aveva senso Ma questo qua Non ha senso Ma perché una persona Non lo prende Questa cosa qui Cioè perché Prende lo stesso Questo setup Perché è dipendente Poi Da questa cosa Tu continui a prendere Stato perché sei Dipendente Dal trading Perché sei dipendente Dal trading Perché la vedi Come unica fonte L'ingresso Unica fonte Unica possibilità Prendiamo un esempio Facendo la stessa La stessa cosa Adesso passiamo A un altro Un altro Campo Vengo a dire Vediamo se Vedete un attimo Ma poi siamo anche Tutti maschi Quindi Ci sta Allora Raga Che rimanga Che rimanga Anche qua Tra le altre maschi Ma poi ci sono anche La parte registrata Ragazzi Quando voi Andate dietro A una ragazza E c'è soltanto Quella ragazza lì Cosa succede? Che voi Siete dipendenti Dalla tipa Ok Però se voi avete Più opzioni Fai lo sottone Ci vai dietro Alla tipa Sei lì Aspettare Un suo messaggio Una sua risposta E appena ti riscrive Arrivi subito Oppure ti risponde Dopo magari ore Tu sei subito lì Presente Rispondi dopo Di nuovo Di aspettare tante ore Te ne sbatti Esatto Perché se ce ne sono Altre Tu vai A dare il tuo focus A altre cose Ti perdi via Io la tradisco Prima così Quando L'ho posto Poi vabbè Ognuno C'è la sua scuola Di pensiero Però capite Il ragionamento Che voglio passare Cioè se voi avete Più opzioni Che voi dovete Sempre avere più opzioni Ve la vivete In maniera molto Più tranquilla Ma il fatto Di dipendere Emotivamente E anche economicamente In questa attività qua Da un solo business Da una sola cosa Che vi frega Poi sul Sul lungo periodo Capite È giusto dire Io provo Tanti setup Perché c'ho fretta Di farcela Ma l'obiettivo finale Ragazzi Qual è? È fare soldi È farne tanti E questo è un mezzo Però questo Mezzo Che noi vogliamo Utilizzare Può volerci anche Più tempo Per andare a costruire Ma per Per essere Secondo voi Un trader Di successo Quante operazioni Va a fare a livello Settimanale ad esempio O anche a livello Mensile Datevi una stima Secondo voi Anzi Quanti Trade Fareste voi Se sapeste Che siete Dei tre Professionisti Vediamo Ok Ho già visto Una risposta Che mi piace molto Vediamo un attimo Quello che avete scritto prima Bello Così mi piacere Che comunque Siete anche Attivi Con la chat È più divertente E se hai cose da fare È anche meglio Così non stai sempre A provare Esatto Esatto E quella è la cosa Ti devi distrarre Proseguo sempre Cosa sta succedendo Esatto Puoi seguire Puoi dare un occhio E se si presenta il trade Beh Se no niente A che opere Io maggiormente Preferisco operare La mattina Quindi appena mi sveglio Per le 9 8 e mezza 9 10 Giù di lì E poi Dalle 18 in poi Ci da un occhio Al mercato Ok Allora 1-2 al mese 2-3 a settimana Ci sta assolutamente 2-3 a settimana Quindi Una media di 10 trade Al mese Quando c'è opportunità Ok Quindi anche questa Mi piace come risposta Quindi quando c'è Un'opportunità Ci può stare Effettivamente Quando anche tu Psicologicamente Sei presente sul momento Puoi andare a trovare E va benissimo Dipende dal tipo Di trade che fai Anche Quello Quello Senza Senza dubbio Però Quello che noi cerchiamo È di andare a prendere trade Solo quando c'è Tutti gli astri Tra virgolette Allineati Che ci permettono Di prendere setup Che ha più vantaggio Statistico Possibile Non sempre Quando si presenta Magari andiamo a prendere Take profit Perché Anche se sono tutti gli astri Potrebbe esserci Quel fattore Che abbiamo trascurato Che non conosciamo Che ci porta A prendere stop loss Però sappiamo Che se su Magari 5 trade Che prendiamo Oppure 3 trade Che prendiamo A settimana Uno va stop Uno va a break Uno va a take profit A livello statistico Se c'è una media Dell'1 a 4 1 a 5 Io comunque Esco e chiudo in positivo E così sono contento E facendo questa cosa qua Già da adesso Così andando a costruire Su un lungo periodo Sviluppate quella mentalità E quella sana abitudine Di prenderne pochi Ma buoni Una settimana E poi vivi Anche Cioè se E infatti ragazzi Se voi sapete Che E quanti setup Prendete Adesso però voi Perché questo È quello che avete detto Se foste Dei Trader Professionisti In questo momento Quanti però Ne prendete adesso Fatevi un paio di conti E ditevi in maniera sincera Poi dipende Da mese a mese Ci sono un sacco di dipende Ci sono veramente Un sacco di variabili Allora di strategia Io sincero Comunque ho visto che Dai 3 ai 5 Comunque saltano fuori Ok Poi magari anche di meno Però Di meglio è quelle Guarderei anche I time frame più grandi Dai 3 ai 5 Anzi a volte 1 2 3 Per oggi Per dire sono entrato Due volte Ok Ok Bene Tutte quelle che possono essere Le risposte che date Ragazzi Ok Quindi non sapevi se era Partenza o Lucement Ci sta E poi ho fatto 60 in profit Voi ragazzi Dovete mettervi nell'ottica Che già adesso Dovete lavorare Con Quella che è La mentalità Da trader Che Pensate di essere Poi tra Magari 1 2 anni Cioè Non ha senso Eh Solo quando avrò Questo risultato Allora mi metterò a farlo No Ok Oggi sono entrato Ecco Anche lì Magari di quelle 4 volte Quante effettivamente Ti davano magari Il trade perfetto Che segui la strategia Magari neanche 1 Ma era semplicemente 4 trade Perché Volevi magari Entrare al mercato Capito Ok Se hai preso poi Vabbè lì Ottimo Sono contentissimo Per te Anche se hai preso Dello stop È tanto meglio Ok Però sempre quella mezza Ok Che non va a tp Anche se ci arrivo Magari Quindi chiudo prima Ok Che poi vabbè Anche lì A livello di giorni Documentazioni Bisogna lavorarci bene Però mi raccomando Ragazzi Quello che Deve essere fatto Quello che vi consiglio Anzi perché Al fine sono Sono qui per Consigliare Quello che può essere Un approccio Che può essere Ritenuto Più o meno Corretto È Agire Al massimo Delle vostre capacità Adesso Ogni giorno Ogni giorno Documentazioni Ogni giorno Giornali E non entrare E accendere Il pc Ogni giorno Con l'aspettativa Di prendere Un setup Capite E questa è la cosa Che deve entrare Nel cervello Io non entro Con l'aspettativa Di prendere Un setup Ogni giorno Io entro Con l'aspettativa Di agire Al massimo Delle mie capacità E di analizzare Il mercato Per quello che è Perché è l'unica cosa Su cui ho il controllo Io Su cos'è che controllo Su quello che vado a fare E non su quello Che Vado Effettivamente A vedere All'interno Del mercato So che posso Dedicare il massimo Tempo Allo studio L'analisi Del setup Ok E dopo Valuto Se vale la pena Entrare Oppure no Il setup Così mi fanno Girare parecchio Ed è meglio Che stacco E ci vediamo domani Vediamo un attimo Questo Questo è molto bello Un setup Molto pulito Non sono Zona di Di sell Però di euro Dollaro Perché qua Comunque stiamo Incanalando E hanno sbilanciato Adesso ci diamo Anche in occhio La reazione è bella Comunque Ecco Ecco Infatti qua La reazione c'è stata Solo che dopo È andato a bucare Infatti vedete Che anche questo qua Ad esempio Era un bel Temporary profit Per dopo Continuare A spingere Ad andare Di alzo Questi qua Si Confermo Che fanno Rosicare Perché fanno Rosicare Si Comunque c'è Le liquidità Candere istituzionale Però ti sbilanciano Di quel poco E dopo Continuano Ad andare su Andiamo a darci Un occhio Oddio di prop Che Una persona può andare Di solito L'FTMO Sì è quello Più Meglio Ok Quello che sai È essere Il più Il più sicuro Tra virgolette Poi vabbè C'è anche TFT The Founded Trader Però la principale Anche God Founded Potresti Cioè Mi vorrei dire Per essere tranquilli Poi alla lunga Che non ti fa Sketch strani È sempre FTM Oggi su EU Hai preso qualcosa Io non ho visto niente Io oggi Personalmente Di trade Andiamo Che non mi ricordo neanche No Non ho preso niente Sinceramente Oggi su Euro Dollar Non ho valutato niente Avevo visto che comunque C'era liquidità Ieri avevo fatto l'entrata Che avevo provato il setup Perché c'era l'opportunità Che avevo mandato anche A tutti i ragazzi Nella community Perché c'era Zona di liquidità C'era questa candelina qua Di missione Dopo qui il mercato Aveva rotto con forza E mi aspettavo Di andare almeno Fino qua sopra Il prezzo poi Sulla zona qua Di interesse Io mi ero fatto l'entrata Perché comunque Ci poteva stare Comunque Andare a rialzo Mi aspettavo Semplicemente Di fare questa roba qua Ok Prendere questo trade Questo 1-3 Molto molto easy È andato a fare Un Praticamente Un 1-2 Solo che dopo È ritornato a break even È andato a bucare E vabbè Amen Però questo qua L'ho preso Perché ieri C'era l'opportunità E mi piaceva Ok Mi piaceva È tutto qua Invece poi Da lì Non è che sono andato A forzare A fare altre cose Qua c'era un'opportunità Di long Che mi ero segnato Che era interessante Che il prezzo Qui ha dato reazione Solo che ho lasciato Il doppio minimo E l'ho pubblicato Infatti dopo Comunque lo andiamo A analizzare bene Con tutti gli altri ragazzi Più nel dettaglio Però il fatto è che Qua dentro Io di setup Ho preso Stando questo qua L'ho provato E non è andata Poi l'ho provato Anche io di USD Oggi Mi pareva Che anche lì Aveva dato un temporary Però anche qua Questo Questo fa Rosica Più che altro Qua dentro Ha creato Un doppio minimo Qua dentro Ha creato Un doppio minimo Quindi ha lasciato Altra liquidità Allora Vediamo qua dentro Perché ti sei segnato Liquidità Candela istituzionale Ok Quindi Il test è valido dopo Però ha lasciato questo Quindi se uno Ad esempio Si faceva l'entrata Così E stava con lo Stablos qua sotto Ovviamente Contando anche Lo spread e tutto Quindi magari anche così Tu lo stesso Potevi andarti a prendere Un setup Di questo tipo E per andare a accumulare Poteva anche starci Però io personalmente Le vostre strategie Avrei evitato Perché c'evo liquidità Contraria Ok Mi ricordi Dopo Dopo guardiamo Dopo lo guardiamo bene Sembra Vado a set Adesso Visto che comunque Il prezzo Sta andando a rialzo E sta spingendo Sta lasciando Veramente tantissima liquidità Cioè per dopo Cos'è che noi possiamo aspettarci Siccome Sta continuando a costruire Qua stiamo attenti Stiamo attenti a questo Stiamo attenti a questo Stiamo attenti anche A quest'altra zona Qua di liquidità Perché Facile che poi La possa andare A riprendere Vediamo come si comporta Magari Sbilanciata questa zona Se ci da un evidence Come abbiamo studiato Ragazzi Che vi ho portato Tantissimo materiale Allora gli vale la pena E non ne prendo in considerazione Altrimenti No Ok Ora Vorrei andare a vedere Guardiamo un secondo Il volo Il gold Che mi ha chiesto E dopo c'è Un'altra roba Di cui voglio parlare Che ci sono un paio Di cose interessanti Allora Allora Io il gold Qua dentro Abbiamo avuto il cambio Stare attento Su questa zona In primis A vedere come si comporta Qua che sbilancia A questo livello Per aspettare Una cosa di questo tipo Stare attento Anche sulla zona Qua sopra Sì perché anche qui Hanno riaccumulato Adesso vediamo Se effettivamente Partono Prima per andare A ribasso E testare qua Oppure come si comportano Poi su questa zona Che comunque Da prestare attenzione Perché è un piccolo cambio Di dominas qua L'hanno fatto Adesso bisogna stare attenti Anche perché Con la stagionalità Si sta rigirando Un po' Io guardando un po' La stagionalità Ho visto che Stasettimana è meglio Andare su poi Nella prossima Sì esatto Cioè per la stagionalità Di questa settimana qua È meglio aspettare Poi Potremmo entrare Comunque In una direzionalità Ribassista Per il dollaro Adesso stiamo a vedere Un po' Però se guardate Se state attenti In mercato Vedete che comunque Adesso stiamo iniziando A stare in range E quando è così Anche qua Vedete Range Per esplodere Adesso sta facendo Il ritracciamento Vediamo come si comporta Andiamo su L'euro qui Cos'è che ha fatto Va ribasso Ha fatto Distribuzione Qua potremmo vedere Una possibile ridistribuzione Quindi vediamo Come si comporta Per eventualmente Continuare Andare a spingere Per questa settimana Al ribasso Questa potrebbe essere Un'idea Per andare a prendere La liquidità Che ci ha lasciato Ok E adesso Voglio interrompere La registrazione Quindi per quelli che YouTube Vi perdete questa roba qua Aggiuntiva Che adesso Vado a spoilerare qua Ai ragazzi Quindi che sia L'avvertimento Per le prossime Comunque mi è piaciuta Come correzione Stop loss Molto molto interessante Quindi supportate Lasciate like E per chi arriva Fino a questo punto Commentate con La donna che balla Nei commenti Del video YouTube Tutto da Grazie a tutti.